Facciamo la magia del Natale. Dov'è che facciamo l'albero ogni anno? Nel posto? Qui. Ok, metti quello. Cos'ha l'albero? Le pigne. Mettiamo dentro il vasettino. Così? Sì. Facciamo un po' di neve. Per farlo diventare un albero, cosa bisogna darle? La metti un pochino, un pochino d'acqua. Ok. E adesso andiamo a Nanna. e vediamo se domani mattina si trasforma in un albero che poi noi addobbiamo. Non sai cosa viene? Cosa viene? Un albero. Davvero? E se mettiamo pure le palline? Ciao pigna, domani mattina. Andiamo andando. Ok, andiamo a dormire. Non vedo l'ora di domani. Visto, amore? Che magia incredibile. hai visto quanto è grande? E con mamma deve venire. Guarda. Ti trasforma. Ti trasforma. Ti trasforma. Ti trasforma. Adesso lo decoriamo, eh? Decoriamo tutto l'albero? Sì. Sì. Sì